benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video oggi come desiderò il mio cane questo qua è il mio cagnolino che ho preso da poco il 27 dicembre il benvenuto dicembre e oggi vi racconterò come è stato non vedete spazio perché sto registrando il telefono vi restate accorti ovviamente perché sto registrando il telefono perché non tengo la videocamera la tengo pure ma non funziona è proprio perché scarica comunque come avete sentito si chiama white il mio cane eccolo ok ragazzi ci vediamo la prova che lo faccio un po' calmare che sta un po' agitato perché non c'è mai niente in televisione su youtube scusatemi me lo faccio e grazie per mi piace sono due mi piace perché non l'ho messo io ve lo dico la verità posso anche provarlo se volete scrivetemelo nei commenti che si levano oppure non si levano ok e ringrazio molto chi mi ha messo il mi piace ciao comunque spero che ci sono piaciuti i miei slime ok comunque luke mi lecca il braccio per farlo scendere ma io non lo farò scendere mai perché dobbiamo voglio farlo vedere molto spesso perché lui non è che si fa vedere molto perché lui è troppo timidone sto qua è troppo timidone tutto 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 comunque vi mostrerò 5 cose che fa calmare ai cani la prima basta white basta mi raccomando raggiungete 5000 like e io vi farò vedere come fare calmare i vostri i vostri cali pazzi come il mio allora vi dirò per quanti anni ha come è fatto le cose che odia e le cose che ama allora lui si chiama white come avete sentito prima a quattro mesi a quattro mesi e mezzo ma non credo che ci crederete però a quattro mesi e mezzo può andare già spesso perché hai fatto già il vaccino poi le cose che chiama sono i calzini questi scusatemi ve l'ho fatto vedere ma va bene scusatemi poi ama i capelli e ama anche le mani e i suoi biscottini va bene comunque e poi è un cattivone le cose che non che non ama non prenderlo in braccio quello che non ama prenderlo in braccio accarlizzarlo mettila sopra come si chiama questa cosa sopra la come si chiama e poi e poi ama e poi non ama che qualcuno li ruba le sue cose allora ora ora vi spiego un'altra cosa com'è fatto a vendere qui il cane qui è più bello canino e poi ve lo faccio vedere meglio come si è qua 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 ok ah le fermo va bene io lo metto per terra e ora vi spiego come l'ho fatto a prendere vai allora prima di tutto scusatemi i capelli comunque io l'ho preso sinceramente l'ho preso perchè perchè mia mamma scusate i miei occhi perchè sono storti ma non riesco a vedere ma comunque ve lo racconto mia mamma mia mamma voleva un cane beh pure lo volevo voleva un cagnolino aspettate non credo che voi state parlando vabbè comunque voleva un cagnolino e ovviamente mio padre per accontentarci tutti quanti lo andò a comprare non lo so tanto lui pure mia mamma è andata a vederlo e quindi io è andata a controllare questo cane come stava com'era com'era tipo il carattere com'era fatto ti capito? allora sono andati sono andati a prenderlo ed era silenzioso cioè tipo non faceva niente non giocava manco era dominione dominione così possiamo dire appena è venuto qua si ora vuole vuole salire il truffone a quanto vede non so se avete visto ma io credo che voleva salire eccolo ciao e comunque sono andati in là sono andati a prenderlo appena appena sono andati qua il cane non tremava come un pazzo tremava come un pazzo e all'inizio all'inizio io non giocavo molto con lui perchè mi annoiava un pochettino ma poi quando ho capito che lui si sentiva un po' sola ho iniziato a giocarci in realtà prima che è venuto io ho iniziato a a togliarlo un po' perchè mi aveva rubato mia mamma scusatemi però poi mi imbarazzo ma io non ci posso fare niente così sono ehm comunque siamo andati a prenderlo scusatemi siamo andati a prenderlo e vabbè scusatemi di nuovo siamo andati a prenderlo e conquistava questo cane cioè non solo ad apprenderlo io mannaggia solo ad apprenderlo comunque lui era silenzioso come posso dirvi era silenzioso credo perchè non lo so e stava dormendo e poi quando erano portato qua ha iniziato a fare lo scemo tipo avete visto urla come un pazzo tipo si scatena avete capito? si scatena tipo vuole sempre tutto quanto e vuole tutto quanto e io non so perchè vuole tutto quanto va bene comunque questo video finisce qua spero che vi è piaciuto lasciate un commento lasciate un commento e un mi piace o un dislike no no non mi piace non mi piace e mettete anche un click cioè pagate anche il click non me ne frega basta che basta che basta che mettete un basta che fate un mettete un commento mettete un commento iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi andate a vedere quell'altro video e spero che vi piaceranno ciao ragazzi ciao 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 ciao